Simone Dallamano, Reduce da una stagione all'Aquila, adesso qui a Coverciano in attesa di trovare un'altra squadra. Tu che comunque sei ancora abbastanza giovane, 31 anni, quindi hai tutte le carte in regola per trovarti una squadra di buon livello anche. Quelle sono le prospettive, siamo qua per allenarci. Purtroppo adesso il calcio ha avuto questa evoluzione, anche se per giocatori come me ci sono tantissimi qui che hanno avuto anche una buona carriera, e hanno sempre giocato, adesso sopra i 30 diventa dura trovare delle buone soluzioni. Che cosa ti aspetti comunque in queste settimane e soprattutto come è andata fino a questo momento la preparazione? No, qui si sta bene, si conosce quasi tutti, meno male la preparazione sta procedendo. Adesso metteremo anche degli amichevoli, quindi meglio di così non potrebbe andare, però aspetto magari qualcosa di serio, indipendentemente dalla categoria. Hai avuto qualche contatto in questi giorni o no? Sì, sì, qualche contatto c'è, qualche valutazione c'è, però tanti aspettano. Poi ci sono parecchi giocatori svincolati, le società appunto non avendo pochi capitali, quindi aspettano magari fino all'ultimo per una soluzione migliore. Potresti anche andare all'estero, valuteresti queste opportunità in passato? C'era stato qualcosa? Sì, ho avuto delle offerte in passato, poi ho preferito rimanere in Italia, poi ho avuto un'esperienza negativa a Cesena fisicamente, quindi l'anno scorso sono dovuto ripartire dalla Serie C, però è stato comunque un buon campionato avendo disputato i play-off con l'Aquila. E quindi non scarto nessuna offerta. Ti senti ancora una bandiera del Brescia? Vabbè, ho fatto più di 200 partite nel Brescia, quindi una vita lì, vent'anni lì, quindi penso di essere stato uno delle bandiere del Brescia. Poi è andata come è andata e la società ha fatto altre valutazioni e quindi però si va avanti. In un futuro ci potrà magari essere la possibilità di tornare al Brescia se non come giocatore in un'altra veste? La speranza c'è, abito lì, sono di lì, sono sempre, sono cresciuto lì, ho vissuto lì, quindi vedremo un futuro, dai per ora ancora voglio di giocare qualche anno. Momenti più belli al Brescia? Momenti più belli, vabbè, dall'esordio, alla promozione, salvezza, l'ho fatta tutte, l'ho fatto una vita lì, quindi l'ho vissuti quasi tutti i momenti. Invece il giocatore più forte con cui hai giocato qual è stato? Roberto Baggio, dai, ho avuto la fortuna di giocare con lui, quindi penso sia quasi scontato dire lui. Qual è l'aneddoto più curioso che ti lega a lui? Con lui, vabbè, che noi a Brescia avevamo due spogliatoi, c'erano quei grandi e quelli un po' più piccoli, tra virgolette, e lui si spogliava con noi piccoli perché ci teneva, ci faceva crescere, quindi ha un bel ricordo di lui. Invece l'attualità del Brescia, cosa ti senti di dire sulla squadra, sul futuro? Ho visto che sento ancora qualche ragazza, hanno rischiato di non iscriversi, sono contento che ce l'hanno fatta perché sono parecchi amici, anche al di fuori del caso, che lavorano lì in società, quindi se lo meritano da magazzinieri. E quindi spero che quest'anno ritornino a fare un campionato di vertice in B, perché se lo meritano e l'hanno sempre fatto.